sei uno scrittore? venga il tuo regno si abbatta la tua volontà con il cielo così intero dacci oggi il nostro pane vi sembra questo il modo in certi spazi all'aperto vi sembra il modo questo questi sono purtroppo di spazi in cui non si può fare quindi per favore per chiedere perdono diciamo tutti insieme padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra certo se lei non crede io non posso fargli niente Dio creò l'uomo e disse non è ancora abbastanza Dio creò la donna e disse non siamo ancora la perfezione Dio creò te e disse me sa che oggi me sa che oggi era proprio un giorno de merda concordi no ma per favore non parlare qua perché io sto lavorando sei uno scrittore davvero cosa sta scrivendo io non sto per parlare con te grazie bello mio grande aspetta eh quando vent'anni fa si ho capito a toccato a lui vado a tome su al dare per favore padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà con un cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come rimettiamo ai nostri debitori e non ci indubbio in tentazione ma liberi dal male amico grazie per aver spiegato insieme a me grazie mille grazie te mani su poste non pensi sto scherzato e non scherzi stavo a fan prank per youtube sì salve discepoli e il vostro caro don... ah ma... sta fa casino salve discepoli e il vostro caro don Antoine che vi parla o forse solo Antoine questa volta questo è un video insomma un po' di riassunto queste sono delle scene che sono state girate durante i scherzi che voi non avete mai visto sono delle scene inedite che io vi ho voluto portare per iniziare l'anno rivivendo un po' quella che è stata la mia piccola avventura del 2016 ancora un augurio di un sereno buon 2017 a tutti io vi aspetto sul canale e speriamo che quest'anno sarà un anno memorabile e bella buon pomeriggio e un buon 2017 a tutti per tutti i malati come mio figlio che vedono questi video queste malattie insomma c'è una malattia si giustamente e tanti tanti auguri e tante belle cose tante belle cose tu che ci dici? io sono il padre di questo video matore qui auguri 2017 auguri e buon anno a tutti oh mio amore oh mio amore